Salve, sono Fabrizio Caon, responsabile del mercato Italia di Digital Yacht. In questo video il nostro direttore Nick Hayes vi presenterà un nuovo adattatore USB NMA in grado di trasferire i dati NMA di bordo sul vostro PC o Mac. È sempre più diffuso oramai l'utilizzo di PC e Mac per la navigazione tramite software di cartografia, come il nostro Smart AirTrap, per esempio. Per poter utilizzare i dati NMA ricevuti tramite l'apposita strumentazione di bordo con il PC, dovrete munirvi di questo cavo. Semplice da collegare, basta inserire questa parte nella porta USB del computer. Qui potrete vedere la parte elettronica, in grado di convertire i dati NMA per il PC e viceversa, indicando con una spia il trasferimento dei dati, mentre dalla parte opposta avrete il collegamento NMA con questi fili per l'uscita ed ingresso NMA. Quindi, se il vostro software supporta anche un output per autopilota, potrete utilizzare Shopify, avendo la possibilità di navigare da Waypoint a Waypoint quando creerete una ruta. Questo fornisce anche un'uscita NMA al pilota, come pure un ingresso di dati NMA. È anche configurabile per dati a 4800 volt o dati AIS a 38400 volt. Se avete più di un sistema con dati NMA, potrete collegare al computer più di un adattatore. Inoltre, è compatibile con praticamente tutte le versioni di Windows, Mac e con molte versioni Linux. Il prodotto viene fornito con un CD contenente driver per Windows, Mac e Linux e due software, un programma di visualizzazione dei target AIS ed un software per consultare i dati NMA. Grazie per l'ascolto.